Ciao a tutti, io vi parlo di Spacey, che è una libreria di grande successo per fare trattamento dei linguaggi naturali, userò spesso l'abbreviazione inglese che è NLP, e si utilizza per fare chatbot ma non solo. Nel prossimo intervento vedremo Prasa, che è un framework per realizzare end-to-end dei chatbot, e una delle due configurazioni di base è proprio basata su Spacey, ma Spacey si può usare in realtà per vari altri usi in parallelo o in alternativa, come Rasa, perché ha una grandissima ricchezza di funzionalità. Io sono Giorgio Sileri, mi interesso di NLP da più di quanto mi piace ammettere, quando si facevano per in maniera statistica. Tre anni fa ho scoperto, grazie all'initato, il chatbot, e da due anni riesco a lavorare attivamente su entrambi gli ambiti. Per parlarvi del successo di Spacey, devo iniziare da una cosa che forse non è esattamente molto legata, che è Ruby on Rails. C'è un 40% di sviluppatori. Qualcuno di voi ha realizzato progetti in Rails? Uno solo. Spacey invece l'avete già usato? Zero. No. Ok. In realtà si parlano poco perché Spacey è una libreria in Python, mentre Ruby on Rails, come dice il nome, è basato in Ruby. Ve ne parlo perché Rails è stato citato dai degli autori come il loro benchmark per la semplicità d'utilizzo. Quando si sviluppa un'applicazione web in Rails ci sono delle convenzioni degli strumenti pensate per la comodità dello sviluppatore. Sono un framework nato per il benessere di chi sviluppa le applicazioni. Spacey vuole essere questo per chi fa NLP. Per cui l'idea è nascondere la complessità di tutti gli strumenti di Spacey, che sono numerosi, dietro convenzioni agevoli che diventino naturali velocemente. Per nascondervi anche alla complessità vi dico soltanto che quando si dà una frase in pasto a Spacey, questa è la spezzetta in frammenti dati token e poi passa ognuno di questi token alle varie moduli che vedete la forma di nilodate e ogni appina nel Linuxoido aggiunge al token l'informazione di cui è competente. Attenzione, stiamo per vedere il codice. Adesso è troppo piccolo, ma per dirvi, in una frase come mi dai il suo numero ogni token è la parola, quindi c'è la prima parola che è lì. Ognuna delle appine ha corredato questa parola delle informazioni che ha scoperto. Una ha detto che è un pronome e altre hanno detto che il genere è... no, non c'è qui il genere, però c'è il numero singolare, la prima persona, che tipo di pronome è, è personale, eccetera. Vi faccio vedere velocemente tre esempi di problemi o comunque dei suggerimenti per migliorare le performance di un chatbot quando vediamo che ha raggiunto i suoi limiti, insomma, per permettergli di comprendere meglio gli intenti dell'utente. Tipicamente progettiamo un chatbot per rispondere a un determinato intento, ci facciamo un'analisi, facciamo un'analisi, in questo caso il chatbot è stato pensato per trovare delle pizzerie grazie alla geolocalizzazione dell'utente, pensiamo degli intenti formulati quasi per parole chiave in maniera molto sintetica e il chatbot funziona bene. Quando poi lo mettiamo a contatto con utenti reali notiamo che lo usano in maniera molto più colloquiale e il chatbot si perde, o magari fanno delle domande che non avevamo pensato, o addirittura, ogni tanto c'erano delle notizie, scopriamo che qualcuno conosce anche il produttivo, ma il chatbot non è detto che apprezzi. Per gestire questi casi, cioè le frasi problematiche, o semplicemente casi nuovi da gestire, chi di voi ha usato Dialogflow è già familiare con questa interfaccia, cioè c'è l'elenco delle frasi nuove che ognuna si può indicare se rientrano nella categoria dell'intento X che avevamo già pensato, o se sono delle cose nuove per cui magari possiamo creare un intento nuovo ed estendere la funzione del chatbot. Questo va molto bene per chatbot che hanno un ambito di applicazione ristretto e un numero di frasi d'esempio limitato, si arriva a gestirne centinaia facendo un po' di fatica. Per basi di esempi più ampie si utilizzano di solito delle grammatiche generative. Qui vi mostro l'esempio di Chatito, mi spiace che la pagina non è sottata completamente, che è una grammatica generativa che supporta vari sintassi come ad esempio quella di Rasa, che permette di specificare delle frasi. Per esempio c'è un intento che si chiama find restaurants high city e dice che i 60 pari delle frasi devono essere composte da questa stringa che è opzionalmente high, opzionalmente please, opzionalmente find e poi i parametri obbligatori che sono restaurants, locate at, poi c'è chioccio da city che significa, qui ci sono alcuni esempi, New York, San Francisco, Aranta, opzionalmente la parola city, opzionalmente un ringraziamento. Poi vabbè, la paginata in realtà era più lunga, mi ho incollato soltanto la parte più avanti, mi dice 60% genera lui con questa sintassi e 40% con quest'altra. totale degli esempi da generare è 100 per il training e 100 per testare poi che Chappock faccia quello per cui è stato progettato. Con questo si riescono a generare quantità enorme di frasi nell'ordine tranquillamente della migliaia, ma il problema di generare migliaia di frasi è che il training richiede anche decine di minuti, di solito due minuti per ogni migliaia di frasi su un buon app. Quello che vi preoccupo io è di fare il contrario, cioè di ridurre il numero di frasi su cui fare l'apprendimento utilizzando la lemmatizzazione, cioè data una frase in ingresso, ad esempio cercheresti le pizzerie aperte dopo le 23, è possibile usare spesi per trovare i lemmi, parola per parola, di cui queste parole sono una coniugazione, una declinazione, in aprimento due minuti, e quindi la frase cercheresti le pizzerie aperte dopo le 23 diventa cercare la pizzeria aprire dopo le 23. due minuti. È un po' dove comprare biglietto bus. È molto rudimentale, ma per il livello di comprensione richiesto da molti chatbot è più che sufficiente e ci permette di concentrare la potenza di calcolo del motore che riconosce gli intenti a gestire i casi particolari. Una delle frasi d'esempio diceva prima che se volessi una pizza, noi avevamo progettato parlando di pizzerie, cercare pizza oppure volere pizza è sicuramente una combinazione che ci interessa inserire, ma persi nella gestione dei congiuntivi, dei plurali e di altre forme verbali non ce l'avano più in mente. Potremmo avere un chatbot addestratto su poche frasi che riguardano, ovviamente così iomatizzate, che riguardano cercare pizzeria e altre che sono cercare pizza, cercare mangiare pizza e diciamo frasi molto simili pronunciate come principianti della lingua italiana. Secondo esempio, possiamo usare spacey per individuare gli aggettivi possessivi. Mi piacevo prima l'esempio del pronome mi, ma ovviamente possiamo anche andare a cercare i possessivi. Questo perché? Perché spesso succede che l'utente si aspetti di continuare alla conversazione e di aver scontato quello che è già stato detto, come lo si gestisce tipicamente, utilizzando il contesto e dando per scontato che l'utente sia già parlando delle ultime entità che sono state riconosciute. in realtà possiamo affinare questo discorso e invece di salvarci brutalmente il nome della pizzeria che abbiamo indicato nel contesto, possiamo raffinare un pochino il procedimento. uno degli strumenti di spacey è displacey, che serve a visualizzare l'albero delle dipendenze sintattiche all'interno della frase e che ci mostra che mi dai il suo numero, parliamo del numero della pizzeria, contiene un possessivo, cioè l'aggettivo suo, che possiamo utilizzare per arricchire la frase seguente, cioè la frase mi dai il suo numero, mi dai il numero della pizzeria, che è una frase molto potente, nel senso che mi dai il numero della pizzeria da Michele, è una frase che possiamo dare anche a un sistema che risponde soltanto per il fatto, diciamo, quasi senza utilizzare il contesto. Il contesto lo possiamo utilizzare per arricchire la frase originaria e darla poi in pasto a un sistema che può essere anche più semplice del classico charpot ad alberatura, quello che diceva prima Oma, possiamo destrutturare l'albero che effettivamente si pensa nella concezione del charpot e lavorare anche al limite solo per fatto. Terzo esempio, che in realtà è la semplicità anche di includere nei modelli linguistici i lettori parola, è una metodologia introdotta nel 2013 e che è stata implementata in vari modi e che consiste nel fare un'analisi statistica di come vengono utilizzate le parole all'interno delle frasi e raggrupparle per somiglianza d'uso, per cui qui c'è un esempio di parole che riguardano la casa in lingua inglese e che sono classerizzate per ambiente sostanzialmente o per attività all'interno della casa. Un esempio che volevo mostrarvi è che oltre al cluster, quindi misurare la somiglianza tra le due parole, che già di per sé può essere molto utile, si può anche fare il ragionamento analogico, cioè il vettore che è la differenza tra il vettore ragazzo e ragazza possiamo utilizzarlo per vedere qual è il corrispondente, cioè per trasformare O e Tessa in, il risultato è un vettore e andando a esplorare i consensi, proviamo che il vettore più vicino è il vettore che rappresenta, vabbè, vi rifarmi il codice che mostra il caricamento del modello, comunque ci sono nella presentazione dei corab per chi volesse smandruppare un po' il codice. Guardando i 5 risultati più vicini al vettore, cioè il vettore ottenuto sommando ragazzo o meno ragazza a poetessa, sono poeta, poi di nuovo poetessa, scrittore, poeta scrittore, musicista. Vi lascio un po' di link utili per approfondire, soprattutto vi raccomando a seguire su tweet i due sviluppatori che sono anche fondatori di una bella startup di Berlino, che ha creato e sta vendendo con source Stacy, e c'è anche il link a queste slide in cui trovate appunto i collab se volete lavorare un po' con il codice. Grazie. Grazie.